Parlatene bene, parlatene male, l'importante è che se ne parli. Mica vero, sai. Un bel pistolotto, perché questo è uno degli argomenti più spinosi, ma anche uno dei miei preferiti. Sono convinto che in generale sia una sciocchezza dire parlatene bene, parlatene male, purché se ne parli. Ma l'argomento in realtà è complesso, perché la risposta è un grosso dipende. Ci sono i casi in cui il parlare male crea comunque il cosiddetto hype, fa gioco di chi propone contenuti, al contrario invece nelle volte in cui è assolutamente controproducente. Facciamo degli esempi e poi tiriamo le conclusioni. Ci sono dei casi in cui il parlatene male in realtà fa gioco di chi crea quel contenuto. Soprattutto non ha senso assolutamente condividere un contenuto per poi criticarlo ospramente. È l'esempio di qualsiasi post politico nel quale sono pieni commenti offensivi o le critiche eccetera, però in realtà se tu condividi un contenuto sulla tua pacheca non fai che amplificare quello che viene detto, anche se non sei d'accordo. Allo stesso modo per gli algoritmi di YouTube un non mi piace equivale al mi piace e quindi ti manda su il video nelle preferenze e nei consigli. Uno degli esempi più famosi, non voglio dire il nome appunto per evitare di fare questo autogol, però c'era un personaggio assolutamente discutibile che faceva dei video assolutamente discutibili anche con qualche personaggio famoso in evidente stato confusionale e ogni volta che usciva il video valanga di condivisioni. Ah come si fa per mettere tutto questo? Ah che vergogna, ah che schifo! Pagine importanti che cercavano di lavorare per la chiusura del profilo, profilo chiuso, profilo riaperto, bla bla bla. e in realtà tutto questo non faceva che il gioco di questi contenuti è assolutamente spazzatura. E allora nel nostro piccolo l'unica cosa che si può fare è ignorare questo tipo di contenuti perché veramente condividerli per criticarli non serve assolutamente a niente. Così per quanto riguarda la musica, se vuoi criticare un artista ma lo butti sulla tua pagina alla fine è più facile tu trovi qualcuno a cui quel video piaccia invece che avere i tuoi sostenitori e poi sostenitori di cosa. Mi piace citare invece alcuni esempi poco conosciuti se vogliamo in cui la pubblicità negativa invece ha fatto il suo lavoro rendendo quindi giustizia, se così si può dire, ad un pessimo contenuto. Mi vengono in mente tre esempi principalmente. Il primo che riguarda il nostro paese in realtà non è poco conosciuto perché ha avuto una discreta risonanza ed è la campagna Guerrieri di Enel. Enel aveva lanciato questo hashtag Guerrieri nel quale invitava le persone a esprimere atti di coraggio, atti di valore che riguardassero insomma in qualche modo. In realtà quell'hashtag è diventato un crush tag come dicono gli esperti ovvero si è rivoltato contro il loro creatore perché la gran parte dei contenuti erano critici nei confronti di Enel per la politica ambientale, per il rispetto del territorio o magari per le tariffe troppo alte ingiustamente, per il monopoli tutta una serie di elementi negativi che si sono rivoltati contro l'azienda e anche se Guerrieri era un trend topic quindi era in cima alle classifiche. In realtà i contenuti positivi legati a questo hashtag erano letteralmente sommersi dai contenuti negativi che l'azienda è dovuta correre rapidamente ai ripari e cambiare strategia perché stava veramente perdendo punti se così si può dire. Un altro esempio invece lo dobbiamo a YouTube è la sua campagna per i rifugiati nel quale ha contattato tanti YouTube stars per parlare della situazione dei rifugiati e cercare di avvicinare le persone al tema dei rifugiati il problema dei rifugiati è che è un tema molto divisivo molto sentito e che crea molte polemiche la gran parte dei commenti e soprattutto dei non mi piace erano o degli haters o dei troll che in questi casi ci si divertono male oppure di persone che dei rifugiati proprio non ne vogliono sapere risultato? Milioni di visualizzazioni sì, ok, ma la campagna non ha spondato soprattutto non è riuscita nell'obiettivo di sensibilizzare le persone ai rifugiati cambiamo un po' argomento, parliamo del nostro aspetto, parliamo di video se si guarda il video con il record assoluto di non mi piace è il trailer del film Ghostbusters quella roba, lasciamo stare i commenti, che hanno fatto pochi anni fa era un remake del famoso film degli anni 80 interpretato da Don, sempre nato dal Saturday Night Live però diciamo con risultati modesti cosa è successo? Che il film si è poi tramutato in un flop nonostante tantissime visualizzazioni però l'iniziativa non è piaciuta il trailer non faceva ridere e allora è diventato tra virgolette una barzelletta cosa è successo? Uscito il film pochissimi sono andati a vederlo nonostante il gran numero di visualizzazioni il film è stato un flop anche se, dicono i critici, non era neanche così terribile l'ultimo esempio, infine, riguarda la musica che è il nostro terreno alcuni anni fa c'è stato l'ennesimo tentativo di ritorno in grande stile di Van Halen con la canzone Tattoo Tattoo era anche un bel pezzo con un bellissimo solo di chitarra di un sembrava finalmente ispirato Eddie Van Halen un po' per il balletto di, non mi ricordo mai se era David Liroth o Sammy Agar anche perché si sono alternati entrambi cercando di tornare alla ribalta con scarsi risultati comunque sia, i fan non hanno gradito il video è stato coperto di non mi piace e anche in quel caso il non mi piace si è poi trasformato in un flop in termini di vendite di conseguenza non c'è stato nessun ritorno in grande stile di Van Halen che ora se si trovano in televisione non fanno che reinterpretare i loro classici e anche in quel caso come in Van Halen 3 il disco non appare nella discografia ufficiale ora, come avete capito da tutti questi esempi da che parte stare lo so però mi rendo conto che il tema non è così semplice non posso dire con assoluta certezza che il parlare male di qualcosa non serve a quello scopo anche perché se si parla di musica o di altri tipi di elementi che non hanno un valore positivo o negativo il parlare male di qualcosa comunque crea condivisioni aumenta l'algoritmo persone si avvicinano a quel contenuto e allora male non fa vorrei evitare di giungere a conclusioni affrettate anzi preferirei sentire anche la vostra opinione e se inscenasse un dibattito su questo contenuto anche alla luce dei fatti più attuali vorrei evitare di fare i soliti nomi anche perché sennò sembra stia cercando di sfruttare l'onda lunga della popolarità altrui però cerchiamo di interrogarsi su cosa vuol dire criticare un fenomeno di qualche tipo e su come possiamo fare difficilmente con il nostro piccolo riusciamo a stoppare dei fenomeni però se ci si inserisce in un'onda più ampia invece possiamo dare il nostro contributo come è il caso del crash tag di qualunque esso sia il tipo il consiglio che do a questo punto l'ho già dato in passato è quello di non parlare di ciò che non ti piace a prescindere ma porta contenuti positivi e validi sulla tua bacheca e quello è il miglior consiglio sempre cerca di ignorare i fenomeni che non ti interessano o che magari ti fanno salire la vile e rodere il fegato cerca la tua strada cerca di portare contenuti positivi per le persone a cui interessa quello che piace a te questo è sempre il consiglio migliore e poi cerchiamo di interrogarsi su cosa vuol dire se parlare bene e parlatene male purché se ne parli ha una spiegazione valida oppure è solo un modo di dire un discorso da bar continuo a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook un bel like e al prossimo Pistolotto e al prossimo Pistolotto